Io non so che cosa avessi in mente ieri sera, una volta tornato a casa da lavoro, raga. Sta di fatto che ho visto il film di Death Note, quello della Netflix, che credo sia l'unico al momento esistente. Questo è un caffè che mi sono fatto fare, dal bar sotto casa. Mamma mia quanto amaro, perché ero troppo pigro per mettere sulla caffettiera questa mattina. Così adesso me lo bevo, con calma, perché io il caffè lo bevo con calma. E intanto vorrei parlarvi un po' di questo film, cioè più che altro della mia opinione. Anche se so benissimo che video di questo tipo su YouTube ce ne sono moltissimi. Un sacco di persone hanno fatto delle review o comunque di video opinione su questo film di Death Note che ha fatto praticamente schifo al cazzo a chiunque. E vorrei potervi dire che io sono l'eccezione, vorrei potervi dire che questo film è un capolavoro incompreso. Purtroppo no. Fa veramente, ma veramente cagare. È di una bruttezza più unica che rara. Però ci arriviamo. Allora, prima cosa, facciamo che finisco un attimo questo caffè. Così ho le mani libere e mi sento anche più, non lo so, più libero di parlare, perché io sono uno che gesticola. Allora, diciamo prima di tutto come io conoscevo Death Note. Beh, lo conoscevo in funzione dell'anime, visto ormai credo 10, 12 anni fa, non lo so. Lo vidi proprio alla sua nascita, voglio dire, quando ancora non erano disponibili tutti gli episodi. Che aspettavo di settimana in settimana, se non ricordo male questa era la cadenza, con la stessa trepitazione con la quale adesso attendo il prossimo episodio, barra prossima stagione di Game of Thrones, per capirci. E per me fu una sorpresa, perché vi dico la verità, io non sono mai stato un grande appassionato di anime e può essere che a volte mi capiti, anche in questo video, di chiamarli i cartoni animati giapponesi, perché da figlio degli anni 80 sono crescendo chiamando i cartoni animati cartoni animati, a prescindere che fossero italiani, americani e giapponesi. E quindi l'espressione anime è qualcosa che non mi appartiene, faccio sempre molta fatica a utilizzare, nonostante sia il termine più apparpiato, me ne rendo conto. Però, ecco, qualora mi riferissi agli anime, utilizzando l'espressione cartoni animati giapponesi, ecco, spererei, vogliate perdonarmi. E quindi non ero un particolare appassionato di anime, tanto meno di manga, che non leggo praticamente mai, e non ho letto neanche il manga di Death Note, l'ho preciso. Però mi venne consigliato questo anime che effettivamente ho amato in maniera proprio pazzesca, così come molte altre persone. Death Note probabilmente è fra gli anime più famosi degli ultimi anni, più apprezzati, proprio perché è andata oltre, diciamo, quella nicchia, se vogliamo considerare la tale, di appassionati di anime, ed è entrato proprio nel cuore di persone che tendenzialmente non hanno un rapporto così interessato con i cartoni animati giapponesi. E' piaciuto praticamente a tutti, non credo di aver mai sentito nessuno al quale Death Note non fosse piaciuto tantissimo, tra l'altro. Per cui, quando è uscito l'annuncio di questo film, beh, certo, ne fu incuriosito, ma anche piuttosto preoccupato. Preoccupato perché? Non tanto perché si trattasse di Death Note, ma perché trattandosi di Death Note si trattava di trasporre un anime, un cartone animato giapponese che, secondo me, non si presta proprio, secondo me, secondo il mondo, in maniera evidente, non si presta affatto a essere interpretato da attori, da persone reali. Per tutta una serie di motivazioni, neanche troppo facili da definire, però è una questione di formato, di media, se preferite. Ciò che funziona in un cartone animato giapponese molto difficilmente può funzionare e quindi essere credibile, non risultare buffo, grattesco, in versione cinematografica. È una questione proprio di animazioni, di espressioni, di stile, ma anche proprio di aspetto visivo dei personaggi. I personaggi degli anime spesso non hanno una fisionomia verosimile. Insomma, sono tante cose. Tendenzialmente, ogni volta che si tenti di far interpretare un anime da degli attori, il risultato è abbastanza grottesco e si ha sempre quella sensazione di cosplay, neanche fatto troppo bene. Questo vale in generale per tutti i cartoni animati giapponesi. Vale anche per Death Note, anche se da questo punto di vista, secondo me, e qui vorrei spezzare una lancia a favore di questo film, Death Note partiva avvantaggiato, perché i suoi personaggi non avevano un look così estremo, così difficile da proporre attraverso degli attori. Non era così proibitiva la situazione. Lo stesso discorso vale per il tipo di storia da raccontare. Non essendo un Dragon Ball, un cartone animato giapponese con scene di combattimento veramente assurde, certo, non era facile da trasporre, ma nemmeno proibitivo in tal senso. Nonostante questo, il risultato è terrificante. È terrificante, ma perché si trattava comunque di un cartone animato giapponese lungo tutta una serie di episodi, molto lungo, per cui l'idea di rendere tutto ciò in un film, tra l'altro a breve, di un'ora e mezza, era folle. Per cui, secondo me, se il risultato è una merda, ed è una merda sotto l'ideiamolo, non è tanto colpa del film, quanto più dell'intenzione. Perché era assurda, io non so chi abbia avuto l'idea di dire, oh ragazzi sapete cosa, c'è questo cartone animato giapponese bellissimo, che è piaciuto a tutti di, non so, 30-40 episodi, ora non ricordo quanti fossero, perché non ne facciamo un film? E perché non ne facciamo un film breve? T'ho un'ora e mezza. Come ti viene in mente questa roba? Certo, è normale, si sa che è sempre bene avere degli accorgimenti, effettuare delle modifiche, per cui nessuno, credo, si aspettava una trasposizione fedele, altrettanto dettagliata. Si sa che in questi casi, quando si decide di trarre un film da un libro, o comunque da un'altra media, avvengono sempre dei tagli, per tutta una serie di motivazioni. Io credo che però il prodotto finale debba dare comunque un'idea, no? Di quello che era il prodotto originario, ed essere fedele. Il che non significa non reinterpretarlo, significa però restare fedele al concept, ecco. Questo film proprio non ce la fa, ci prova per certi aspetti, perché ad esempio la trama generale, secondo me, non è neanche così malaccio, cioè in un'ora e mezza, non credo che si potesse fare di meglio. I problemi grossi sono altri. Il più grande, secondo me, è l'intenzione, perché era già una cosa veramente folle, pensare di poter fare una roba del genere. E poi, diciamo che le scelte che sono state fatte, a partire dal cast, non è che abbiano aiutato. Il protagonista, poverino, non sa recitare questa persona. Ci sono alcune scene dove sembra veramente un ragazzo preso a caso dalla strada e messo lì a recitare. E anche lì, forse la colpa non è tanto dell'attore, ma è di chi l'ha scelto, perché io non dubito che l'attore abbia fatto il meglio che poteva, che è poco, che è molto poco. La scena nella quale lui scopre l'esistenza di Ryuk e dovrebbe essere spaventato è imbarazzante. È imbarazzante perché sembra proprio di vedere una persona che non abbia mai recitato, che non sappia recitare, che provi a simulare una reazione di spavento. E il risultato è grottesco. Io in quel momento ho veramente provato l'imbarazzo per l'attore, sinceramente. Quella forse è la scena peggiore in assoluto. E qualcuno l'avrà vista, no? Cioè qualcuno l'avrà vista e avrà detto ok, questa scena va bene, mettiamola nel film. Non lo so. Tra l'altro, forse ancora più grave è come Light è stato scritto, perché nel cartone animato... Cos'era questo rumore? Nel cartone animato giapponese Light era un figo, da qualsiasi punto di vista. Era un ragazzo particolarmente intelligente, non che un secchione, ma in maniera molto differente rispetto allo stereotipo di secchione che noi abbiamo in Occidente. Per noi occidentali, tendenzialmente il secchione, a livello stereotipico, naturalmente, è un po' uno sfigatello, un emarginato sociale. Forse questo stesso stereotipo non sussiste in Giappone, non lo so, non conosco abbastanza bene la loro cultura, ma, da quel che ne so, loro hanno una percezione piuttosto diversa del lavoro, del senso del dovere, dello studio. Quindi credo, forse, che loro non attribuiscano necessariamente al secchione l'idea che noi occidentali gli attribuiamo. Non lo so, sta di fatto che la percezione che ha il mondo di Light non è assolutamente quella dello stereotipo appena descritto. Cioè, lui è un ragazzo molto intelligente, molto studioso, anche molto bello, molto sicuro di sé, molto ammirato, comunque, da chiunque gli stia intorno. e effettivamente episodio dopo episodio dimostra la propria intelligenza, quindi è un personaggio odioso, tendenzialmente, volutamente odioso, ma che ha una sua coerenza, ha delle caratteristiche che minuto dopo minuto vengono confermate da ciò che c'è, da ciò che accade nel cartone animato giapponese. Non è così nel film, perché Light ci viene, sì, proposta anche qui come secchione super intelligente, ma questa super intelligenza non si manifesta, anzi, bastano veramente tipo 30 secondi dall'inizio del film per capire che in realtà è un coglione, perché solo un coglione potrebbe intermettersi in una rissa per difendere una ragazza dicendo al teppistello di turno un ragazzo noto per la facilità con la quale attiva violenza fisica, solo un coglione potrebbe insultarlo senza aspettarsi di prendere un pugno e infatti Light si prende un pugno in faccia, il Light dell'anime non sarebbe mai stato così cretino da provocare in maniera così diretta, così sterile una persona violenta per poi prendersi un pugno in faccia, una cazzata, non parliamo poi dell'idiozia della scelta di far rivelare a Light dell'esistenza del Death Note e di tutto il suo potere a una ragazza appena conosciuta, tutto ciò accade a 5 minuti dall'inizio del film, c'è roba che ti fa veramente vale di chiudere il film immediatamente, perché che cosa stai guardando ti viene da domandarti, cioè questo non è Death Note, questo non è Light, cos'è questa merda? Vabbè, scelte veramente imbecilli, poi la volontà di inserire questa sorta di storia d'amore se vogliamo si riprende, cioè ad un certo punto del film acquisisce quasi un senso, perché appare quasi che sia avvenuto un ribaltamento di ruoli, e cioè sembra quasi che la mente di questo film in realtà non sia Light ma la ragazza, perché a un certo punto sembra che lei sia riuscita a raggirarlo, no? a giocarlo, spoiler ovviamente, ma cosa ve lo dico a fare? cioè dai ragazzi, cosa ve ne frega dello spoiler per quanto riguarda questo film assurdo? Invece poi non è così, per cui Light dà una dimostrazione di intelligenza, non lo so, però questo gioco di ruoli, vi dirò che non mi è neanche, questa inversione di ruoli non mi stava neanche dispiacendo ad un certo punto, molto diverso rispetto a ciò che accade nell'anime dove ci ricordiamo che la ragazza che è un altro personaggio, va bene, in realtà viene sfruttata fino all'inversimile, vabbè, ci sono differenze di trama che però secondo me ci stanno considerando il differente tipo di format, ok, però, cioè per assurdo la cosa più riuscita che era una di quelle che mi preoccupavano maggiormente è Ryuk, cioè mi domandavo come avrebbero proposto Ryuk, se in computer grafica, se attraverso un costume, mi sembra che in realtà abbiano fatto una via di mezzo, ecco, la rappresentazione visiva di Ryuk è forse una delle cose più convincenti del film, ma non che sia una figata, però rispetto al resto sembra una figata, poi, come viene anche lì, come è stato scritto Ryuk non c'entra un cazzo, cioè, proprio viene interpretato come fosse un demonio qualsiasi che si diverte a fare del male alla gente, era molto diverso nell'anime, aveva una profondità assai diversa e la faccenda non era così bianconera, insomma, questo film è evidentemente un prodotto molto più, molto più superficiale, ripeto, secondo me il suo più grande difetto è proprio, avviene prima, cioè proprio l'intenzione, era già condannabile quella, cioè non c'erano le permesse per riuscire a fare un qualcosa di buono, poi, la scelta del cast non ha aiutato, in particolare per il protagonista, perché poi gli altri, come è stato scritto il protagonista, non ha alcun senso, e di buono, forse, c'è l'idea di americanizzare il film, secondo me questa è stata una cosa abbastanza intelligente, cioè ambientare l'un'America, fare qualche modifica, in tal senso, non abbastanza, insomma, provare a reinterpretarlo, ecco, forse avrebbero dovuto provare a farlo di più e meglio, perché restare fedeli a quel tipo di ambientazione dell'anime avrebbe complicato ulteriormente la vita, quindi quest'idea secondo me era giusta, non ci sono stati i mezzi o le capacità o i tempi per concretizzarla, non lo so, comunque il film è brutto, ragazzi, c'è poco da dire, è brutto, non so cos'altro di ragazzi che ho dovuto aver parlato anche troppo, ditemi però, ditemi la cosa su Death Note, c'è qualcuno a cui questo film si è piaciuto? E tra l'altro, c'è qualcuno che l'abbia visto senza aver mai sentito parlare né del manga né dell'anime? Perché in questo caso mi domando cosa possa capire e o pensare di questo film di Death Note, non sono sicuro che possa avere un senso per qualcuno che non conosca il prodotto originale, fatemelo sapere attraverso un commento, ciao!